Una volta evasi dal carcere, assaltarono diversi automobilisti di passaggio rapinandoli delle loro autovetture, utilizzate poi per la fuga. E' la cronaca di quanto avvenne la mattina del 9 marzo scorso, in piena emergenza Covid, fuori dalla casa circondariale di Foggia, teatro di un'evasione di massa che portò all'allontanamento di 72 detenuti. Oltre tre mesi dopo, i responsabili sono stati tutti identificati da polizia e carabinieri che questa mattina, a Foggia e in altre province italiane, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 detenuti. Sono accusati di rapina pluriaggravata in concorso e tentata rapina aggravata. Il provvedimento arriva a seguito delle indagini coordinate dalla procura del capoluogo Dauno, che hanno fatto luce sulle violenze commesse nei minuti successivi all'evasione, avvenuta durante una rivolta scoppiata nel penitenziario, dopo la sospensione delle visite con i parenti per via delle misure anticontagio. In base a quanto ricostruito nel corso dell'attività investigativa, allo scopo di allontanarsi rapidamente dall'istituto di pena, i fuggitivi si impossessarono di molte auto presenti nella zona del villaggio degli artigiani, caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali, tra le quali diverse concessionarie. In alcuni casi i detenuti fermarono gli automobilisti in transito, obbligandoli con violenze e minacce a scendere dai loro veicoli, oppure costringendoli ad accompagnarli presso luoghi più sicuri. I fuggitivi furono assicurati alla giustizia nei giorni successivi all'evasione. Alcuni si costituirono, altri vennero catturati dalle forze dell'ordine. Ma all'appello ne manca ancora uno. Il pregiudicato 37enne Cristoforo Aguilar, accusato dell'omicidio della madre della sua ex fidanzata Filomena Bruno, uccisa a Coltellate il 28 ottobre 2019 ad Ortanova. È l'unico degli evasi, ancora ricercato e probabilmente anche il più pericoloso.